Siamo accorti che non era uscito, per tutti i giorni lui non era uscito e poi si è provveduto a chiamare carabinieri. Ma lei ha chiamato? Un gruppo di ragazzi tutti quanti, di giovani, di paesani. Ma chi era questo signore? Un signore che è stato in Canada fino a qualche anno fa, quindi una brava persona, era un pensionato, quindi stava qui tranquillo. Lei abitava lì vicino quindi lo conosceva bene? Lo conosciamo, sì. Come si spiega questo episodio? È una cosa che non sappiamo proprio, è veramente spiegato, anche perché tra l'altro, io mi auguro di no, ma se veramente corrisponde a quello che si, a meno che si è legato su internet, mi dispiace per lui, ma anche per noi che siamo qui, insomma, in pochissime persone. Visto che è stato in Canada per tanto tempo, lei magari sa se aveva dei soldi in casa con sé, aveva dei… Questo signore era molto riservato, quello sì, però era molto riservato, quindi diciamo più di tanto non andava mai a far conoscere. Riceveva delle visite, riceveva delle persone? Lui andava fuori spesso, sì, infatti era stato al mare, quindi siamo un paio di settimane giù a Tortorello, poi è tornato. Lei non si è accorto di niente, non ha sentito rumori in questi giorni, non ha sentito niente? No, non abbiamo visto niente, però ci siamo preoccupati perché non usciva di casa. Tutti conoscevano Renato, era una persona proprio di una tranquillità unica. Qui siete una trentina di abitanti, se dovesse arrivare una persona non del posto a trovare questo signore che viveva da solo, ve ne sareste accorto? Sì, sì, ma ce ne saremmo accorto, però diciamo non è che oggi, per via anche di questo fatto, stiamo qui, ma qui generalmente la gente… Io lavoro, altre persone non è che si vedono, molte volte non si incontra una persona per ore, quindi è chiaro che una persona è strana, ma nessuno ha visto entrare, oppure… Nessuno, se ne sono accorti perché aveva ordinato un amico delle provette per fare delle analisi dell'urino, non so, non l'aveva trovato in caso, cosa è strana, gliel'ha lasciata attaccata alla porta e dopo diverse ore ha visto ancora attaccato lì e si è allarmato e ha chiamato… Ieri sera che cosa hai sentito? Ho sentito, io sono stato a casa, sono venuti certi persone, certi amici e hanno detto… E' preoccupato adesso? Beh, era un bravo cristiano perciò…